Emanuele tanta roba, lui arriva da dove arrivi Emanuele? Di dove sei Emanuele? Eh? Sei perso? San Vito San Vito? San Vito provincia di? Chieti Chieti! Siamo a Chieti nel centro d'Italia e ci portiamo un bello Z8 Lui è il fratello più grande che si chiama? Fernando Ciao Fernando Ma è lui è lui che è partito tre anni fa e l'ha ritornato ha lasciato il cuodo, ora l'abbiamo con lo Z8 ex Bianchi Giampiero, quello che correva a mille chilometri ora lo fa correre lui in targa prova, vero? Certo Perché lui è un'officina, è un punto vendita è un punto very victory team Ragazzi che dirvi? Buon viaggio, buon rientro vi aspettono a 500 chilometri? 600 Dai Buone ferie a tutti ragazzi io sono esaurito devo andarmi a ripigliare il Caraibi Ciao fratello, buon viaggio Ciao fratellino Ciao Z8 Hai sempre provato a battermi ma non ce l'ha mai fatta mi dicevo sempre io, però andavi forte pure tu ora tocca a lui Ciao 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 Ciao